Uno stabile senza ascensore può diventare un serio problema per gli anziani, anche autosufficienti e le persone con disabilità, soprattutto se alle prese con problemi motori. Un aiuto arriva dalla regione Emilia-Romagna, che per la prima volta stanzia dei fondi per installare ascensori e montascale negli stabili di edilizia residenziale pubblica. Si tratta di 2 milioni di euro per il 2018. Attraverso uno specifico bando saranno dunque finanziati, oltre a questi interventi, anche lavori per l'abbattimento degli ostacoli presenti in appartamenti o spazi comuni all'interno dei palazzi, che costituiscono un limite o un impedimento per chi si muove con difficoltà, ad esempio dislivelli con gradini o rampe troppo rigide, corridoi e servizi troppo stretti, pavimentazioni scivolose. I comuni proprietari degli alloggi destinatari dei contributi regionali potranno avvalersi delle ACER, in qualità di gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per effettuare i lavori. La regione riconoscerà fino ad un massimo dell'80% dell'importo complessivo delle opere di adeguamento. È la prima volta che la regione Emilia-Romagna investe due milioni di euro e lo farà fino alla fine del mandato in maniera strutturale per dare il via ad una serie di interventi, insomma partiamo dall'edilizia pubblica ma ovviamente saranno poi i privati che si daranno da fare anche per costruire questi ascensori, con l'idea di dare una risposta soprattutto alle categorie fragili di anziani che necessitano di un modo per uscire di casa, cioè vogliamo evitare che la gente sia rinchiusa in casa per problemi di difficile accessibilità. I finanziamenti verranno erogati a breve perché i tempi sono molto rapidi ai comuni, quindi su base provinciale ci sarà un riparto di questi due milioni, chiederemo un piccolo cofinanziamento ai comuni perché è bene che ci sia una responsabilizzazione su progetti importanti di questo tipo e poi saranno loro tramite le ACER a fare gli appalti rivolti ovviamente al mercato privato. Si tratta di interventi sia di costruzione di nuovi ascensori sia di accessibilità in senso largo, cioè ci sono appunto condomini dove devi costruire anche delle piccole scalette o degli interventi esterni per poter poi arrivare all'ascensore oppure anche manutenzione straordinaria di ascensori magari estremamente vecchi che non funzionano più. In Emilia Romagna gli edifici popolari sono 6.571 per un totale di oltre 59.000 appartamenti, l'età media dei fabbricati è di 45 anni e circa il 30% dei nuclei assegnatari è composto da over 65 anni, in particolare 1.257 fabbricati risalgono al dopoguerra.